Ciao ragazzi, oggi sono felice perché oggi sono qui a Spoleto Io sono Brocian e dietro la camera è Aurora Ciao! Oltre di noi è Stelaggia Italia Vieni di nuovo con Brocian e Aurora Che tavolo di Spoleto è una provincia? Regione? Cosa? Spoleto o L'Umbria? Umbria L'Umbria è una regione Espolè Allora spieghiamoci bene che là in fondo Dietro di là C'è, non riesci a vedere Adesso ti faccio vedere Vedi? Lì Sono di impiantaggione di olive Olivetti Sì, guarda uno E veniamo Let's go Lo diciamo, cioè lo dici? Ok, allora Lì sopra dove Chandra vi ha mostrato gli olimetti Noi dormiamo la notte Quindi sarebbe la nostra residenza per questi giorni Sì, vieni Sì, vieni Sì, vieni per andare a incontrare ok ragazzi, ora Brochan è in fronte di ponte del retore unico unico di bangsa romà Wicuno potete vedere Adesso camminiamo per cercare nuovi posti, soprattutto per vedere dove hanno girato il film di Don Matteo. Ciao ragazzi! Lei non me la ricordo più, però c'entrava qualcosa. Ok ragazzi, stai a Aurora sulla Mangelasca, per ancora un attore, attraverso il film di Don Matteo. E ora, siamo qui in un paio di Osteria Alba con felice, in un paio di Bacarino Sama. È disponibile? Com'è? Com'è? E okey guys sekarang kita akan menuju ke tempat lainnya stay tune terus with brocan and aurora still at the channel jelajah italia move on selamat pagi teman-teman semua sekarang berhujan berada di daerah Montefalco jadi sebuah kota kecil jaman Borgo jadi di atas bukit gitu teman-teman sambil kita jalan sambil kita temukan sesuatu hal yang menarik di arah Montefalco stay tune terus di jelajah italia channel bersama brocan let's go hehehe bersama dengan amore saluti ciao ciao dan tidak lupa juga disini ada aurora mania so where are you where are we? Montefalco guys now we are in Umbria so exactly on the district Montefalco wait a minute the most small city small city Montefalco this is a small small borgo so this is like an antique antique city so we're gonna see we're gonna see the view let's take it let's go panoramanya sangat bagus teman-teman seperti sekali jadi kalau anda berkunjungi Italia jangan lupa mengunjungi Montefalco bagi anda yang suka dengan wine di sini ada wine yang sangat tenang sekali wine merah ya anggot merah yang bernama Sagrantino di Montefalco Amore mana? Amore? ok guys let's go let's see the beautiful panorama together with us let's move di daerah provinsi Umbria guna akan hanya terkenal dengan anggur merahnya tapi jika anda mengetahuinya sangat terkenal juga dengan produksi minyak zaitun yaitu olive oil bisa anda lihat sekelilingnya anda jika berkunjung ke Italia kunjungi Montefalco khususnya dan provinsi daerah Umbria ikuti terus petoran rojan bersama jelajah Italia masakan khas karakteristik di daerah Spello mari sama-sama kita rasakan dan kita pesan makanan apa yang menarik oke guys tadi kebetulan kita sudah pesan makanan ciri khas di daerah Spello nanti sama-sama kita simak dan tadi juga bro yang sudah memesan satu buah botol anggur merah kebetulan ciri khas dari daerah Spello dari provinsi Umbria oke not bad ya 12,5% grade alkoholnya sama-sama kita rasakan bagaimananya apakah food pairingnya sesuai dengan retuan yang sama-sama kita pesan tadi ya dan jangan lupa anda juga harus makan siang ya isi perutnya supaya menambah energi buat kegiatan selanjutnya jangan kemana-mana ikuti terus petulang rojan bersama dengan keluarga jelajah Italia channel YouTube terima kasih teman-teman selamat makan kita coba truffle truffle yang hitam ya oke teman-teman yaqué Il frittale di salvia, questo è il frittale di salvia, no non è salvia, qui no, in alto è una foglia, dentro c'è una foglia, strong, no non è basilico, non sa da basilico. Tra poco arriva anche la pasta, infatti sì, devo trovare uno spazio, qua sono quasi tutto pieno, ma come? Sì perché qua fanno degli antipasti, dove assaggio un po' tutte le cosine tipiche dell'Umbria, ma c'è tanta roba, ce la basterebbe per un pasto praticamente. Vabbè, vediamo. Vediamo, sì. E' impasta alla norcina, tartufo e salsiccia, ovviamente la dividiamo in due. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, 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 vabbè. o no non ma un buon 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 bianco bianco e nero bianco e nero abbraccia insura acqua addios arostrusni no 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 e ora sono pienissimo non mangi più pieni stasera? non 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 Grazie a tutti